Buonasera a tutti, per chi non ci conosce lui è Marco, io sono Leonardo e viceversa, è vera la prima. Allora, prima di lasciare la parola a Marco che comincerà con la parte più introduttiva, vi dico subito che questa è una serata pensata come un primo avvicinamento alle birre del Belgio, quindi non saremo dettagliati, non entreremo nelle questioni più tecniche della produzione della birra perché sarebbe anche abbastanza complicato, quindi scordatevi i tempi di ammostamento, temperatura dello sparging, ammostamento torbido e queste cose più tecniche, non le tratteremo se non molto di sfuggita. Vorrei dire un'altra cosa che ora mi sfugge, quindi probabilmente non era importante, quello delle birre, ma lei arriva? Ah no, sì, sì, ok, il motivo della serata è che siccome a forza di IPA e di APA e di DAVOLIPA e di DAVOLAPA ci siamo loro abbastanza rotti le scatole, abbiamo deciso di tornare un po' alla base, quindi stasera assaggeremo delle birre che si rifanno quasi tutte molto pesantemente agli stili classici del Belgio, ma ne vedremo anche due o tre che mettono qualcosa di nuovo perché alcuni dei biodifici che assaggeremo stasera sono abbastanza recenti, nonostante facciano degli stili molto tradizionali. Quindi ora Marco inizierà con un contesto storico geografico e poi comincieremo subito con le birre, quindi parleremo dei vari stili con la birra già nel bicchiere, quindi semmai vi chiedo, anche quando vi stai dando la birra vi darà voglia di scambiare opinioni, di invece trattenervi un attimo perché così almeno ci fate dire proprio quelle due cose due sullo stile. Se tu l'accendi forse funziona. Va? Sì sì. Perfetto. Una è dietro? Eccoci, è andato troppo avanti. C'è la cartina del Belgio appunto per farvi vedere il Belgio è una composizione di più regioni in particolare suddiviso in due parti, la parte al nord delle Fiandre di lingua fiamminga, olandese, la parte al sud Vallone di lingua francese, sono francofoni. Questo per farvi vedere queste regioni perché parlando delle varie birre a volte le nomineremo ecco per capire facciamo a modo queste regioni qua, Namur che è la regione diciamo dove vengono prodotte principalmente le Blanche, Lainot che è dove vengono prodotte la patra delle Saison e sulle Fiandre dove ci sono tutte invece altre tipologie ecco. Partiamo subito un po' con dei sceni ecco sul Belgio, abbiamo scelto il Belgio che come diceva appunto Leonardo è la regione diciamo regina, la regione più importante per la produzione birraria per tutti gli appassionati di birra. Questo perché si sono mantenute le tradizioni, ci sono numerosissimi stili birrarie prodotti nel Belgio, tra questi si parla di una sessantina di questi stili, una dozzina, 10-12 principali e un'altra cinquantina ma anche 60 di sottostili. Tutti tradizionali che hanno un minimo minimo, i più recenti risalgono circa a un secolo fa, ma i piantini risalgono veramente a epoche e meori. In più il Belgio, come diceva Leonardo, rappresenta una diversità da quello che sono le birre fatte dai micro birrifici artigianali oggi. Quasi tutti, il 90% si dispina la produzione anglosassone con l'utilizzo forte di luppoli di origine spesso americana che marcano fortemente questa tipologia di birra, mentre nel Belgio è un po' diversa situazione, si preferiscono birre più tendenzialmente maltate e caratterizzate piuttosto da lieviti che dai nuclei. In più, qui abbiamo delle birre veramente con una gamma di aromi importante, una gamma di aromi fruttati e speziati di una notevole complessità aromatica. Appunto, il fatto che abbiamo così tanta diversità nel Belgio per la produzione birraria è devuta a diverse motivazioni. Una perché il Belgio da sempre è stato dominato da vari popoli, da vari regnanti, è diventato praticamente una nazione indipendente solo nel 1831, l'unificazione delle Fiandre e la Vallone nel regno del Belgio, e ci sono stati tutti questi popoli che l'hanno conquistato e dominato e hanno tutti lasciato una traccia nella produzione nella cucina e nella produzione anche della vida stessa. L'altro fattore importante è un fattore climatico, perché il Belgio si presta a un clima che si presta alla coltivazione dei cereali, in particolar modo del frumento e dell'orzo, e dei luppoli. Ci sono tutta una serie di luppoli che nascono a una regione che si chiama Popridge, che sono luppoli tipici di questa zona, diversi, che hanno caratteristiche molto diverse dai luppoli che troviamo sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, ma anche da quelli tedeschi. Passando un po' a vicende storici, appunto, come dicevo, visto il clima e visto la possibilità di coltivare cereali in grande quantità, da sempre, fin da prima appunto della terminazione romana, in questa regione i Celti producevano le birre. Le birre dell'epoca erano quasi tutte a base di frumento e sempre di orzo, però erano a bassissima gradazione, molto diverse dalle birre belgiche che conosciamo oggi. Poi dopo la caduta dell'Imperio Romano si è avuto un ulteriore passo in avanti grazie ai monasteri, ai monaci penedettini, fino ad arrivare poi ai monaci trappisti e poi stiamo arrivando ai tempi nostri. Praticamente c'è stata una nuova rivoluzione all'interno del Belgio dove sono nati tanti piccoli microbi edifici che si ispirano ai vecchi stili cercando di personalizzarli, ma mai stravolgendoli come invece succede a volte anche qui da noi, che a volte si fanno degli stili, ci si ispirano a uno stile ma si tende a fare uno stile completamente diverso. Tutta questa diversità birraria, il fatto che la birra faccia parte della cultura del Belgio, ha fatto sì che due anni fa, nel 2016, la birra belga è stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità. Questo è successo per il Belgio e non per la Germania proprio perché nel Belgio non c'è mai stata una legge tipo il famoso ditto della purezza che limitava l'utilizzo di alcune materie prime, il Belgio diceva che si poteva produrre birra solo con orzo, acqua e luccolo e lievito anche se non c'era quell'epoca, con questi quattro ingredienti. Mentre qui non c'è mai stata una legge simile e per cui si è continuato a produrre birra in maniera tradizionale con l'utilizzo di erbe, di spezie e di ingredienti vari. Tutta questa tradizionalità appunto ha portato questo riconoscimento da parte dell'UNESCO, che è successo ormai da un paio d'anni. Se proprio vogliamo appunto schematizzare le birre belghe in una grande tipologia, come per esempio noi si pensa sempre alle birre che sono birre generalmente a bassa fermentazione chiara, non tutte, ma la maggior parte di queste. In Belgio c'è una enorme diversità, però sono caratterizzate quasi tutte da alcune caratteristiche. Le principali sono la rifermentazione in bottiglia che viene fatta dividendo un lievito o zucchero o tutte e due nel momento dell'imbottigliamento e principalmente la caratterizzazione data dai lieviti autottoni del Belgio che possono essere selvaggi oppure tipici di quella regione. Generalmente sono lieviti ad alta fermentazione che lavorano a temperature abbastanza alte, arrivano a 25 gradi ma anche a 32 gradi nel caso dei leviti della saison e danno luogo a birre che hanno una gamma di aromi fruttate e speziate e magari altre tipologie di birre non hanno. Oltre a queste due caratteristiche si può anche aggiungere altre caratteristiche tipo appunto come vi dicevo prima l'aggiunta di zucchero e anche di caramello spesso in fase di fermentazione. Il fatto che qui in Belgio come lo ha accennato anche che il malto e il lievito prevalgono sul gusto, prevalgono quasi sempre sul gusto ruppolato e poi principalmente anche l'utilizzo che troviamo del grano sia nelle blanche che nell'ambic. Grano che veniva utilizzato nei paesi del nord Europa da sempre ma che questo utilizzo è stato abbastanza spazzato via dalle leggi appunto tedesche ed è rimasto quasi in uso esclusivo nel Belgio a parte la famosa Weizen. In più appunto l'uso dei famosi luppoli americani con un forte potere americante è molto raro in questa regione. Comunque nella nostra mentalità noi quando pensiamo nel Belgio pensiamo sempre alle birre quelle ad alta gradazione, in realtà queste birre sono proprio le ultime nate nella storia del Belgio, le più vecchie quelle che risalgono all'anno 1000 sono proprio le blanche, quelle a base di grano, mentre queste sono nate tutte dopo il 1919 quando una legge proibì la vendita di bevande di super alcolici nei bar e in particolar modo del gin che era la bevanda per eccellenza e allora aumentò la richiesta di birre ad alto potere alcolico e da lì dopo questa legge in Apro molte delle birre famose che non conosciamo come la dubbe e la tripe. Il 1919 tratta allo stesso anno del proibizionismo in America che invece in America spazzò via tutto quello che era la piccola produzione che c'era negli Stati Uniti per portarla alla produzione industriale. Parlando appunto agli stili, diciamo quelli più importanti, quelli che diciamo con macro stili, più importanti del Belgio, possono dividere fra quelli a base di grano e di frumento che possono essere il Leber Blanche o Vitpia, oppure il Lambic con tutte le sue varianti che vanno dalla cricca al faro, alla algez e via dicendo. Poi ci sono birre a fermentazione mista e cioè sia con l'utilizzo di lieviti selvaggi che con l'inocolo di lieviti, tutte e due le fasi, che sono le red beer, quelle rosse, e le wood brewing, le birre brune, tutte e due delle fiante. Ci sono poi le saisons che sono quelle caratterizzate da un particolare tipo di lievito che è questo lievito che è simile ai lieviti utilizzati per la produzione del vino. È un lievito che lavora fino a 32-33 gradi di temperatura, che è una temperatura molto alta per un lievito, perché generalmente muovono molto prima i lieviti. Poi abbiamo tutte quelle vilde di origine monastica, che sono le trappiste di abbazia. E infine le Belgian ale e Belgian strong ale, che sono anche queste le ultime nate, quelle nate generalmente dopo la famosa legge del 1919. Poi ci sono tutta un'altra serie di birre, che sono birre non classificabili in alcuni di questi stili, come ad esempio tutte le birre dei microbi edifici nati negli ultimi anni, che si ispirano generalmente al Belgian ale, però mettendoci un po' del su, cercando di personalizzare la produzione della birra. Poi tra le birre speciali abbiamo quelle come la Deus e la Maler, che sono una sorta di champagne, praticamente sono prodotti con il metodo classico in sostanza, con gli spumanti metodo classico. Infine poi, tra le birre speciali, quelle di Natale. Le birre di Natale è un tipo di birra molto particolare, viene prodotto proprio, non prodotto in questa stagione, ma si comincia a bere in questa stagione, che viene prodotta molto prima, spesso l'anno precedente. Sono birre caratterizzate da un gusto fortemente maltato, tendenzialmente dolci, hanno una variazione molto alta, quasi sempre superiore ai 10 gradi, e la caratteristica è che sono fortemente speziate. Generalmente le spezie utilizzate sono la cannella, il ginger, l'anice stellato, e che si abbinano bene ai dolci natalizi della zona, che sono dolci generalmente che poi concordano con questa spezia. Infine, appunto, per darvi un'ultima infarinatura su quello che è il mondo delle birre del Belgio, ci sono tutte le birre prodotte da questi nuovi birri free, che sono tantissime, e fanno delle birre eccezionali, almeno dal mio punto di vista, e interessantissime. Fra questi ci sono alcuni di questi, come la Brasserie de la Seine, che è a Bruxelles, che produce delle birre generalmente un po' diverse da quello del Belgio, però utilizzando luppoli, malti, tutto produzione belga, riesce a ottenere delle birre leggermente luppolate, con una gradazione bassa. Le più famose sono la Taras Bulba, che ha 4 gradi e mezzo, e la Zinde Beer, che ha 6 gradi. Poi, appunto, c'è i Destruis Browers, che sono l'altro birrificio, questo è famoso, Destruis vuol dire lo struzzo, perché c'era un allevamento di struzzi vicino al birrificio, in sostanza. Loro sono famosi per delle birre ad alta gradazione, molto importanti, molto maltate, corpose. La più famosa di loro è la Panepot. La Panepot, che è prodotta in diverse versioni, dalla base alla riserva, addirittura ci sono quelle varie case, quelle che sono 5 anni in cantina, 10 anni in cantina, esce addirittura millesimata quasi tutti gli anni. Poi, infine, appunto, ci sarebbero altri, e ci sono tantissimi, da Rull, The Dr. Van der Korenara, e poi ci sono tantissimi, questi birrifici e tutti fanno birre una più interessante dell'altra. Ho messo questi tre, appunto, The Doll Brewers, che vuol dire i birrai pazzi, o loro, ora non sono più loro perché ne è rimasto uno solo, e praticamente sono caratterizzati da questa, tutte le birre hanno un fiottino, infatti lui, anche lui quando ha il pub ha sempre il papillon, è sempre vestito con questi papillon colorati, e loro, proprio con tutta una gamma di birre, si li fanno alle Strong Ale, alle Virgin Strong Ale. Tra le più famose c'è la D'Ultere, che vuol dire la prostituta pazza, che è una triple, una triple molto tradutrice, beverina, però ha oltre 10 gradi, e quella lascia abbastanza seduti dopo aver venuto un po', c'è appunto anche la birra, quella per Pasqua, e la più famosa, forse, fra loro è proprio la Stille Nat, che è la birra natalizia, che esce tutti gli anni, ed è ricercata molto da tutti gli appassionati di birra, è una birra chiara, usando molti cari, che arriva fino a 12-13 gradi alcolici, questa birra. Allora ora si inizia a servire le birre, e mentre si servono le birre, noi vi diciamo due cose sullo stile che andiamo a assaggiare. Iniziamo con la prima vitra che è una Blanche. la Blanche. Allora, iniziamo appunto dalla Blanche, perché la Blanche è uno degli stili più antichi, più vecchi, fra quelli prodotti in Belgio. Si fa risalire fino all'anno, dall'anno 1000, e la caratteristica di questa birra è che è prodotta con il 50%, generalmente la ricetta prevede il 50% di malto d'orso, il 45% di frumento non maltato, una piccola parte di avena. In più è aromatizzata con buccia d'arancia seccata e coriandolo, che si sentono fortemente nell'aroma della birra. Era una delle birre più famose del Belgio, è prodotta in questo paese, in questa cittadina che si chiama Holy Garden, e anche la birra si trova ora la birra, quella marchiata Holy Garden, però è di proprietà di un marchio industriale. Questa birra era famosissima, tanti giorni, nel settecento c'erano circa 35 birrifici in questa cittadina, una cittadina piccolissima che aveva 35 birrifici e producevano questa. Poi con l'avvento di tutte le nuove tipologie è andata a decadere, fino a quando nel 1955 ha chiuso l'ultimo birrificio, si non funziona, che vedete lì con il cesto di vini, è quello lì con il cesto di vini, si chiama Pier Siris, che ha riacquistato il birrificio per ricominciare a produrre questa birra, che stava morendo perché invece è uno degli stili tra i più antichi del Belgio. In quella foto in particolare era un cesto di vini che serviva per separare le trebbe dal mosto, veniva fatta manualmente, per filtrare. Uno teneva il cesto di vini, gli altri con dei mestoloni, passavano tutta la miscela e la separavano dal mosto. La birra invece che gli stanno servendo è fatta da uno degli edifici moderni, beneficio dei Glasentoren, che vuol dire la torre di vetro, che in questa cittadina del Fiandre orientale, è stato fondato da tre amici, il primo è Jeff van der Steen, l'altro che è un'autorità del mondo birrario, lui è un giudice che ha scritto un sacco di libri sulle birre del Belgio, gli altri sono amici appassionati, hanno creato questa società. Le birre che producono loro si rifanno tutte a stili tradizionalissimi, però loro cercano di personalizzare senza stravolgerle perché anche nel fare tipologie come questa che stanno vivendo utilizzano materie prime che sono prodotte in Belgio. E la birra che è stata appunto seguita ora è questa, Jan Velit, che prende il nome da un brigante di questa regione, prende un brigante di questa regione, si rifà allo stile che è le birre blanche o vit birre che si vuole in fiammingo, sono le bise appunto di grano. La caratteristica di questa villa è che vengono utilizzati, mentre nella ricetta tradizionale sarebbero malto d'orzo, frumento non maltato e vena, qui c'è anche l'aggiunta del grano saraceno e poi c'è tutta l'aromatizzazione classica, quella con il coriandolo e con la buccia d'arancia. Le bucce d'arancia hanno cominciato a inserirle nel Seicento quando la compagnia dell'India orientale dall'isola di Curacao portava dell'arancia mare e allora fu pensato di introdurre anche questo ingrediente all'interno di questa birra. Si, tenete conto che questa è una blanche abbastanza tipica, prima di tutto perché i produttori sono fiamminghi e la blanche è uno stile tipico della pallone, quindi loro hanno cambiato qualcosa. Il cambiamento più importante di questa birra qui è la gradazione alcolica, perché le blanche in genere sono la gradazione alcolica a 4-4,5 gradi. Questa invece ha 7 gradi, quindi è una birra abbastanza sostenuta come birra d'alcoli. No, anzi, la birra che faceva per Seicento aveva 4 gradi e basta. La birra che ha rifatto. La Loi Garden quella? Si, la prima. Poi lui l'ha venduta, Loi Garden ha un gruppo industriale, però alla fine c'è venuta la ricetta alla San Bernardus e che si trova anche nella mia distribuzione c'è venuta da San Bernardus e lì fa alla plancia originale di Pesli. Quattro massaggi ce l'avete tutti? Si, ce l'avete già tutti, penso l'avete già anche un po' assaggiato. Ora la degustazione della birra non conseguiremo, non sarà così canonica, ma come si fa quella del vino insomma. No, perché? Ma c'è. Però, te che c'hai? C'era poca? No, anche vedo un... non so come... Vi basta, sono finite tutte. No, regolate voi, siete voi, insomma il resto. Niente, appunto, non facciamo la degustazione normale, ma la degustazione della birra partendo dall'aspetto visivo generalmente si va ad osservare prima la compattezza della schuma, perché la schuma come si ripete sempre ha un'importanza, molto importante nella birra, perché oltre a avere gli stessi aromi che ritroveremo nella birra più che altro è la preserva dall'ossidazione. L'ossidazione è il nemico principale della birra. Le birre, quando vengono stappate, iniziano subito ad ossidarsi. Iniziano subito ad ossidarsi, per cui dopo un po' sarebbero difficili da bere. E la schiuma ci aiuta in questo. Ora, non tutti gli stili prevedono che ci sia schiuma. Questo in particolare, essendo la birra di frumento, non è abbastanza lì. Se avete visto, quando la versavano ha generato una bella schiuma all'inizio. Poi il fatto che duri più o meno dipende dai bicchieri, da come sono lavati, se sono lavati bene, se sono lavati male. Se c'è il brillantante, se non c'è il brillantante. C'è tutta una serie di questioni un po' aleatorie. Però, insomma, la schiuma l'avete vista. Il colore, ovviamente, è tipico in cui si utilizzano delle birre fatte con i malti chiari. è torbida, perché le birre di frumento sono tutte generalmente velate o torbide. In particolare, se pensate alle Weiss, magari di solito sono quelle un po' più conosciute. Anche le Weiss sono abbastanza, di solito, proprio negliose. Quindi siamo decisamente nello stile. Al naso, anche lì, si sente la spezzatura, si sentono i lieviti, si sente il frumento. Principalmente il lievito, la rosta ai pali, questa... Si sente l'aromatizzazione, insomma, le note di... Non è eccessiva, non è, ecco... A volte si sente anche di più l'arancia, l'agromata... Anche la carbonica non è esagerata. A volte le Blanche... Poco, sì. A volte le Blanche sono decisamente più gassate di queste. Come carbonica, qui è abbastanza delicata. Fine, fine, fine. Molto fine. Che la rende una birra molto bevibile. Cioè, questa si finisce proprio in un lampo, nonostante i 7 gradi. Ecco, vedete questo che... Ha un corpo molto leggero, nonostante i 7 gradi ancorici. Ecco, questa... È una birra molto peverina. È una caratteristica di questa tipologia di birre e anche di altre, tipo quella successiva. La vena delle birre contribuisce sempre a dargli una certa morbidezza, una certa... Soprattutto in bocca, una sensazione tattile molto vellutata e anche qui si sente. E' una birra appunto abbastanza potente, però fra appunto queste caratteristiche, si diceva ora, Tra il fatto che ha questo finale, e questo è un'altra delle cose che è un po' diversa dalle blanche solide. Questo finale molto secco, questa è una birra che se ci fate caso finisce secca. Mi lascia la bocca asciutta con questa sensazione piuttosto secca. Le blanche in genere tendono ad essere un po' più morbide anche nel finale. Però questa finisce in maniera... È carizzevole anche in bocca. Sì, in bocca mi dà questa sensazione di cremosità molto facile da bere. Finisce secca e quindi richiama subito un altro sorso. Non è una birra che a volte con il frumento, con queste aromatizzazioni, possono essere un po' pesanti. Questa invece decisamente è una birra che si beve e richiama al bicchiere successivo. Nonostante sette gradi alcoolici. E come riferimento è molto nello stile. Nonostante questa lieve è il doppio. Più grado d'alcolio. Però il richiamo è molto tipico. Le blanche, ecco se prendete questa come riferimento ce l'avete perché più o meno le caratteristiche sono queste. Sto guardando perché ho detto... Spero e più fortuna non la chiamino Imperial Blanche perché ora... Lo double blush che è una cosa che mi fa male dentro. Infatti non ce l'ho scritto stile double blush perché è una cosa odiosa. È una blush con grado d'alcolio un po' più alto. E' un grado d'alcolio che poi man mano si riscalda si sente di più, appare più bocca... Sì, anche le note speziate che sono legate al lievito nelle birre di stasera troverete che vengono fuori molto in maniera più accentuata via via che la birra si scalda un po'. Queste sono tutte birre, a parte questa forse, tutte quelle che assaggeremo dopo, non sono birre da bere fredde, ghiacciate. Si bevono dai 10 gradi in su, diciamo. Fino anche alle... Sì, fino alla temperatura di cantina di 13 o 14 gradi. Con questa si può bere anche un po' più fresca, però ecco è piacevole anche quando si alza la temperatura. È una birra importante. Sì, si procediamo. Potete andare anche con la seconda. Sì, la seconda è un altro degli stili ormai millenari, centenari, millenari della... Come riferimento siamo ancora in Ballonia, siamo nel belgio francese per capirsi. Sì, questa è la Saison. La Saison è la birra che veniva prodotta, un po' tipo come certe birre tedesche, che viene prodotta a Primavera per essere bevuta l'estate. Era la birra dei lavoratori stagionali, che veniva venguta i lavoratori stagionali nelle fattorie. Eramo Saisonieri. Queste fattorie che producevano la birra erano una sorta di quelle che noi oggi chiamiamo il birrificio agricolo, perché si producevano anche gli ingredienti stessi per la produzione della birra. L'altra caratteristica di questa... la caratteristica principale di questa birra qua è la spezzatura. La spezzatura è data da questo levito, un levito che lavora a queste temperature molto alte, un levito da vino in sostanza. e appunto era appunto come originariamente era fatta anche questa come quasi tutte le birre del Belgio utilizzando i leviti selvaggi, mentre ora appunto vengono usate. Caratteristica di questa birra appunto oltre a questa spezzatura è fatta anche questa come quella precedente, che ora questa che assaggeremo la sentiremo, ma generalmente sono birre tendenzialmente secche. Anche queste di colore chiaro, leggermente ambrato, perché anche qui i malti vengono utilizzati, sono i fils al massimo vengono utilizzati dei malti caramella, niente, ma mai malti scuri. E la luccolatura non è mai eccessiva, come quella di prima avete sentito, il lupolo non si sentiva, non si sentiva praticamente quasi per niente. E sono generalmente appunto rifermentate in bottiglie, anche queste. E nella ricetta delle saisons venivano utilizzate, oltre agli ingredienti base, anche qui delle erbe e delle spezie, che però ovviamente era una sorta di ricetta segreta. Qui fra queste abbiamo messo qui due immagini, c'è la rasseria vapore che è famosa per per chi ha tutto un impianto che funziona a vapore e tutt'oggi produce in questa maniera, con questo impianto a vapore. Tutti gli ultimi sabati del mese fanno la cotta pubblica, per cui tutti possono andare ad assistere. Si mangia e si beve, quindi se capitate in zona merita una gita. Invece quella che vedremo stasera è prodotta da un altro vidificio moderno, che ha una storia simile a quello di prima. Sono praticamente degli appassionati di vita degli unbluer che poi piano piano si sono messi. Proprio hanno cominciato a promuovere vita. Questo vidificio si chiama Deranchi, fa riferimento appunto al nome dei filari di luppolo, perché loro sono in una zona, si chiama appunto Poperingi, dove vengono prodotti quasi tutti i luppoli del Belgio. Quasi tutti i luppoli del Belgio vengono prodotti. Si è buiato l'altro e poi vai vai. Ecco. Tuffa massa, come diceva. Sta lontano. Non mi metto a fare tutti i testi. Comunque appunto, loro utilizzano, la caratteristica del loro vidificio è quella di essere più luppolate, di quelle della media belga, ma i luppoli utilizzati anche qui sono luppoli autottoni, luppoli prodotti in questa zona. Utilizzati spesso anche nel famoso dry hop, cioè a freddo dopo la fine fermentazione. Questa è la birra che gli è stata servita. Qui si scende di grado alcolico, perché le season sono birre da bere d'estate e dovevano avere un grado alcolico piuttosto basso, ma anche se raggiungivano la stessa, 7-8 gradi lo stesso, perché per i Belgi il grado alcolico basso non è proprio bassissimo. La caratteristica di questa è di utilizzare tutti i luppoli, tutti i malti chiari, come vedete anche dal colore, sono malti chiari. Ci può essere pienso, oppure non so se ci sarà anche qualcosa di ambrato, di malti chiari. Sulle ricette stasera troverete per qualche birra più informazioni, per qualcuna meno. I Belgi hanno la fissa delle ricette segrete, cioè non se le raccontano nemmeno fra di sé, fra birrai, nessuno dice nulla a nessuno. Quindi quello che sappiamo che è certo ve l'abbiamo scritto. Qui può darsi che ci sia dei malti leggermente ambrati, leggermente caramellati, perché dal colore potrebbe sembrare così. Però quello che c'è scritto qui è quello che ufficialmente sappiamo. Le ipotesi voi ve le diciamo via via. Anche i luppoli, come vedete lì che sono utilizzati, Challenger Buse Gold, sono d'origine inglese ma coltivati in Belgio. L'Alertal, Mitterfum sono invece d'origine tedesca ma coltivati sempre in quella zona. Lo Stigian Gold è un luppolo sloveno e va tra l'altro molto di moda, ma anche questo lo coltivano loro lì, in questa zona. Anche qui. Qui avete visto quella schiuma pannosa, questa è anche più di quella qui. Ancora di più. Bella persistente. Poi una caratteristica di questo lievito è di dare una notevole gassatura. di produrre tanta carbonica per cui la gassatura, poi non l'ho ancora assaggiata, dovrebbe essere più presente che nell'altro. perché dovrebbe ripulire, dissetare, proprio appunto, una birra dissetante nel concetto belga di birra. Qui è un po' più scura, tendente al dorato, il colore di questa birra, appunto, che fa pensare appunto ai smalti, che si passi oltre ai Pirs, appunto, anche a qualcosa di... Lì c'è scritto Pirs e Pellir, ma potrebbe far pensare anche a qualche carame, qualcosa del genere. Profumo anche qui, il primo profumo che arriva è quello del lievito. Sì, qui sentite, allora rispetto a quella precedente, l'aroma dei lieviti che si sentiva era... i lieviti c'erano una leggera speziatura, ma più che altro ricordavano la panificazione. Qui invece siamo proprio sui lieviti belgi, quelli che lavorano a temperature alte, quindi si sente la speziatura, ci sono delle note quasi fenoliche, si sente il pepe, si sente... Ecco, senti questa. Si comincia a sentire queste note qui, diminuisce il fruttato, cioè le note fruttate, più da esteri, diciamo, che ci sono, o che c'erano nell'altra, qui si sentono un po' meno. E anche i profumi morbidi, diciamo, l'altra aveva il profumo di crosta di pane, quasi già più dolce, un po' meno. Poi sotto la speziatura, cominciate a sentirci la frutta, anche la frutta tropicale, no? Che è abbastanza tipica, anche questa delle fermentazioni a temperature alte. Si creano, si formano molti esteri, quindi ci sono un sacco di note fruttate, che però in questo modo sono un po' il secondo piano rispetto alla speziatura. Ecco, bocca, questa sente più la carbone, l'altra aveva più questa cremosità avvolgente, questa meno, lascia però la bocca forse più pulita. Qui c'è anche il lupolo che secca. Il lupolo sente un po' l'erbascio nel fondo, sulla parte finale della lingua, leggermente, ma non più di tanto. L'attacco delle note maltate, quelle dolci, subito appena all'ingresso di bocca, come quale sempre, perché appunto le parti dolci sono all'inizio della bocca e invece l'amaro è sul finale. L'amaro è il gusto che percepiamo proprio sulla fine della registrazione. Sì, sul finale di bocca vi resta, cioè, rimane per un attimo le note fruttate, le note un po' più dolci, se vogliamo, però un attimo che passa quelle, resta in bocca e resta per tanto tempo proprio l'amaro della lupolatura. Qui si sente che la lupolatura è proprio decisa, ha un ibu di 45, quindi vuol dire che siamo altini come amaro. Loro sono stati tra i primi a fare lupolatura degli altri, siamo nel Belgio, che in Belgio il lupolo era utilizzato quasi esclusivamente come conservante, mentre da loro sono proprio stabiliti anche in quella zona per poter utilizzare lupoli che abbiamo prodotto in quella zona. Se nell'altra birra quello che faceva differenza con lo stile era, diciamo, la gradazione alcolica, qui invece la cosa tipica dello stile è proprio questa lupolatura. Nelle season, diciamo, per virgolette, tradizionali, tradizionali, non c'è questa lupolatura così generosa. Si sente decisamente meno. Qui invece è proprio una caratteristica della vita. Questa è considerata abbastanza universalmente una delle season migliori in questo momento, in Belgio insieme a quelle più classiche della brasseria vapelle o di Dupont, eccetera, che sono poi i produttori, sono poi i grandi produttori. E invece, a proposito di Dupont, invece che della season tradizionale... Date pure con la terza birra intanto. Abbiamo una birra anche di loro, la Dupont, che... La Dupont è una birria che ha qualche secolo di storia sulle spalle, sempre distinta fino all'inizio dell'Ottocento, sempre in questa regione. Nel 1920 la famiglia Dupont ha deciso di acquistare questo edificio e tutt'oggi i vicendenti del signor Dupont continuano a produrre la vita. Loro sono stati famosi appunto per le season e per le season al miele, ma anche appunto hanno mantenuto questi impianti vecchi che sono anche famosi per questa birra qui che andiamo ad assaggiare stasera, che è la Bonveri, che è una birra creata appositamente nel 1970 come birra di Natale. Nonostante sia fatta anche questa con i lieviti season e con, non ne sapendo, la tradizione delle season, questa birra è nata per fare un regalo alla famiglia. Infatti c'era alla scatola con i miglior clienti c'era scritto con le bombe della Brasserie Dupont. Con i migliori auguri della Brasserie Dupont. Ebbe però un successo che dal 1970 non hanno mai smesso di produrla. La caratteristica di questa birra qui, che stanno per versare, è la sua struttura, perché qui si sale di gradazione e non poco. Anche qui, intanto lo vedrete, i malti utilizzati sono sempre quelli chiari, il pils, il pere e il via dicendo. Il lievito è sempre il lievito, il lievito season, il top of the year di questa regione. Mentre anche qui c'è una forte lupolatura. La ricetta può essere vinta, si pensa ci sia anche delle spezie e qualche aroma, perché come ora vedrete da sentire, ecco, un aroma molto particolare. Ma la caratteristica di questa birra qui è la gradazione alcolica, la potenza e la struttura. Perché qui si arriva a 9 gradi e mezzo. 9 gradi e mezzo per una birra di questo tipo comincia ad essere una gradazione importante. Qui, come vedete, hanno versato la schiuma, è ancora di più persistente. Abbiamo una schiuma ancora più persistente. Come vi dicevo, il colore è simile a quella di prima. Un dorato qui è anche un po' meno pronto a sé perché il dichiere è praticamente... ovviamente... No, no, questa è... non è trasparente, è molto... non è... non è filtrata. Malto utilizzati chiari, lievito season. Qui se andiamo ad usarla però i profumi che ci arrivano sono diversi da prima. Se li fa a quella famiglia lì, ma appunto vi dicevo la ricetta completa, non la conosciamo, ma è fatta di qualche aroma, qualche spezia, probabilmente anche dello zucchero candito, che è proprio tradizionale nella produzione delle birre del Belgio. Infatti arriva subito un profumi dolci, immediati, praticamente di malto, il malto è molto presente, il lupolo è nascosto, non è rilassato, non è rilassato, non è rilassato, non è rilassato. Hai provato qualcosa di fruttato? Si comincia a sentire un po' di frutta matura, quasi seccata, si comincia a sentire qualcosina dell'albicocca, dell'albicocca pastiglia, qualcosa di... Sì, qui si sente, allora, da Quito si sente subito, cioè la speziatura che c'era in quella precedente, qui si comincia già proprio alla prima annusata, si sente, si riconosce la similitudine con la speziatura che c'era nella precedente. Però subentrano delle note già più dolci, già più fruttate, che ci fanno pensare a un mix di spezie aggiunte, perché veramente questi aromi che si sente sono veramente tanti, e veramente pronunciati per essere dati solo dal lievito, quindi questo fa pensare. Questa è una di quelle ricette iper mega segrete che nessuno dice, cioè qui si è mandati veramente un po' a caso con la scheda, quindi sono veramente poche notizie. Però c'è un e-book basso di quella... Sì, questa è meno amare di quella ricette. Viene fatto il dry-offing anche in questa, però ce n'è meno. Si sente l'amare, anche questa finisce amare, ma è decisamente meno amare di quella. Prima sul fondo c'era quasi un miele di castagna amare. Si, si. Questa sembra quasi mirosa, ma molto amare. Ma il Delanche è tipico, loro vogliono proprio lupolare, loro secondo me ci sono messi lì, perché noi si vuole lupolare le virre, utilizziamo i lieviti tradizionali del belgio, utilizziamo mauti tradizionali, ma vogliamo i lupoli lo stesso, anche i prodotti in belgio. Infatti le virre del Delanche sono tutte caratterizzate da una discreta loculatura. Qui si sente innanzitutto la carbonica, la carbonica è più presente rispetto a quella di prima, si sente molto in bocca, dà anche più struttura la birra, che è una birra corposa in bocca, proprio corposa, con queste note fruttate importanti, e anche qui però il corpo ha un bel equilibrio anche con l'acqua. Anche questa è una birra che non stanca, e per essere a 9 gradi e mezzo, come diceva Marco prima, e questa è una delle belle birre che ti mette a sedere, perché finché sei a sedere la bevi meglio, quando ti alzi per andare via, uno si accorge che le ginocchia la comincia ad affacciare. Una bottiglia da 75 a 9 gradi e mezzo, non è come il vino da 13, però insomma una bottiglia in tela è una cosina... Ecco, una birra da... loro la chiamano la birra natalista, ma secondo me è una birra da pasto, per pasteggiare. Sì, questa è una birra gastronomica sicuramente, con questa carbonica, con questo lieve amaro sul finale, è una birra perfetta per abbinamenti, anche abbastanza ricca, competenze anche abbastanza ricche. ma non lo so, a parte se la usi per cucinare o qualsiasi cosa, cioè ci fai uno stinco, cottone in questa birra e poi ce l'abbini, è perfetto. come bevano loro queste tipologie di birra? con le cozze, che dappertutto sono... si, si, le bevano dappertutto. dolce, si, si, la cozze dolciastra, questa, secondo me, segue, tu, la... piatto nazionale belga, le mule fritte, la chiamano birra, la chiamano birra di Natale, in genere, alle birre di Natale, se qualcuno di voi le conosce, ci si ascioccia alle birre scure, in realtà non è proprio così, perché per esempio anche la Stille Nacht è una birra chiara, assomiglia a questa, assomiglia un po' a questa, la Stille Nacht è ancora più potente, quella basta una bottiglietta da 33 per mettere da sedere, a minimo di 10 gradi, però qui, ecco, diciamo, invece una cosa che di solito è caratteristica delle birre di Natale, come diceva prima Marco, è la speziatura, quindi questo è un altro di quegli indizi che ci fa pensare che ci sia delle spezie aggiunte, perché in genere nelle birre di Natale c'è sempre delle spezie più dolci, aggiunte, come aromatizzate. più marcate, le birre scure le mettono caramello, si sono più dolci, queste sono spezie un po' più secche, un po' più, un po' più asciutte, quelle altre sono spezie più dolci, c'è la cannella, c'è lo zenzero, qui, qui probabilmente no, però si insomma c'è una discreta, una discreta speziatura anche qui. ora ne abbiamo assaggiate tre di fila, facciamo una breve pausa, non lunghissima, si si, così almeno i sommeliessi, si è fatto tre birre da ammalti chiari, tre birre da ammalti chiari molto caratterizzate dai lieviti e dalle cose utilizzate come aromatizzanti, e l'ho quindi da una parte la buccia all'arancia a curacao e il coriandolo, dall'altra i lupoli e le speziature, e siamo stati in Vallonia, finora siamo rimasti sempre nel sud, nella parte sud di cultura e lingua francese. Ora ci spostiamo a Bruxelles proprio, perché Bruxelles è una sorta di enclave francofona, che poi non è nemmeno vero perché ormai a Bruxelles si parla, la cultura è abbastanza mista, però geograficamente siamo nelle Fiandre, però Bruxelles fa un po' regione a sé. e parliamo di quello che è l'altro grande stile belga, che è il lambic. Il lambic probabilmente c'è una questione, è come il coriandolo, o si è geneticamente predisposti o non lo si è, quindi o lo si ama o lo si odia, diciamo il rapporto è un po' questo. C'è chi dice che sia... I benci dicono che è un gusto acquisito, quindi loro lo sanno meglio di tutti, quindi ci si fida. Qual è la caratteristica del lambic? Il lambic è una birra a fermentazione spontanea, buoni buoni, se no vi trovo il cadolare per arrivare sotto alle vostre voci. È una birra a fermentazione spontanea, quindi significa che non c'è inoculo di lievito, quindi i lieviti si inoculano direttamente nel mosto, ed è tipica della zona del Paiotteland, che è a sud di Bruxelles, perché è una zona, questa valle del fiume Sen o Zen, a seconda della lingua che dovete usare, che è molto ricca di questi batteri, di questi lieviti che sono il Bruxellesis e il Lambicus, che sono quelli tipici della zona, che per l'appunto dei nomi si capisce da dove vengono. Mottesiosi. Esatto, le hanno chiamate come Bruxelles e come lambic, quindi diciamo non ci sono tanti dubbi. È una birra in cui deve esserci, per chiamare la lambic, per legge almeno il 30% di frumento non maltato, come nella Blanche che abbiamo assaggiato per prima, ed è una birra molto antica come produzione. Addirittura si fa risalire al 1500, anche se la ricetta, il metodo di produzione dei lambic che vediamo oggi è stato codificato più o meno alla metà del 1800. Prima veniva fatto in maniera abbastanza diversa, se non proprio alla metà diciamo nel 1800. Quindi malti chiari, quando si parla di orzo, e frumento non maltato, un'altra grande componente. Vi spiego un attimo come è fatta, perché è veramente una cosa un po' particolare. Diciamo che la fase di ammostamento è abbastanza classica, quindi si mettono il malto, il frumento, di solito separatamente viene fatto l'ammostamento, poi viene filtrato, si fa la cotta, nella fase di cotta vengono aggiunti questi luppoli che chiamano sui ranne, ossia luppoli molto invecchiati che hanno perso quasi completamente le capacità aromatizzanti e amaricanti, vengono messi solo come antiossidante e antibatterico, quindi come conservanti, non apportano né aromi né amaro. La cosa strana tipica di questa birra inizia dopo la fase della cottura, quando ci dovrebbe essere l'inoculo dei lieviti. Qui ovviamente non viene fatto inoculo. si mette il mosto a raffreddare in delle stanze apposite in cui avviene questa magia in totale autonomia. Ora, ho delle foto. Ecco, questa è una vasca in cui viene messo il mosto dopo la cottura. Vedete, sono vasche alte una trentina di centimetri, sette metri per cinque, stando nel sottotetto del birrificio con le finestre, con queste feritoie aperte, in maniera tale che l'aria circoli il più possibile e i lieviti che ci sono nell'aria si inoculino automaticamente nel mosto. queste stanze, e qui ho preso due foto presentabili, presentabili. Non utilizzate. Ecco, esatto. Perché sono... Queste stanze sono considerate quasi assolutamente intoccabili. Perché? Perché la popolazione batterica non è solo nell'aria che entra, ma è tutta in questa stanza. Quindi le stanze non si toccano. Se c'è una ragnatela, si lascia la ragnatela. Anzi, fa anche comodo, perché siccome questa è dolce, i ragni fanno fuori anche i moschini che arrivano sul mosto. Se c'è una bicicletta lì dal 1800... Si lascia lì. Si lascia lì. Se il gatto va a fare il suo pisolino qua sotto, il gatto non gli si rompe le scatole, il gatto va. Ossia non si vuole disturbare in nessun modo l'eventuale popolazione flora batterica che c'è in questa stanza. Tra l'altro i produttori di Lambic hanno avuto delle grosse diatribe con la Commissione Europea per quanto riguarda le questioni legate all'Igere. perché veramente se uno entrasse in questi verifici qui, cioè, butta un fiammifero e dà fuoco a tutto, perché ce n'è qualcuno veramente impressionante come livello, tra virgolette, igienico. fanno abbastanza specie se uno non sa quello che ci viene fuori. Però, ecco, diciamo che qui, in questa fase qui, che è abbastanza lunga, diciamo, dura un giorno e una notte, avviene di nuovo quello dei batteri, dei lieviti selvaggi della stanza o dell'area che passano attraverso queste feritorie. dopo una notte, in genere il giorno dopo, questo mosto, che ormai è già inoculato, viene omogenizzato in maniera tale che le popolazioni batterie si uniformino su tutta la massa e poi viene messo in botti di legno e subito inizia la fase di fermentazione. Le botti possono essere più o meno grandi, sono sempre botti molto usate, difficilmente si usa botti fresche, cioè, sono botti ovviamente in cui prima c'è già stato qualcosa, orto, scervi, madera, vino, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che venga a mente, però sono molto usate, non si usano botti fresche che diano degli apporti marcati, devono essere quasi neutri. qui vedete la fase proprio in cui viene versato il mosto ancora caldo nella vasca di fermentazione, vedete tutte queste muffine belline che c'è sulla trave, quelle si lasciano, nessuno si permette di andare lì con una spugnetta elevata. La fase di fermentazione che avviene in queste botti è abbastanza complessa, ci sono diciamo almeno quattro fasi, almeno quattro fasi. La prima è abbastanza inquietante, è quella in cui ci sono gli entero batteri, fra cui anche le scherichie acoliche agisce sul mosto. Poi c'è la fase classica, quella che conosciamo tutti, quella della fermentazione acolica vera e propria, la fase dei saccaromices, quella più tumultuosa in cui si genera la schiuma, e poi vi faccio vedere la schiuma. Questa dura anche qualche mese, perché sono batteri non inoculati, non sono lieviti creati in laboratorio, sono lieviti che hanno i loro tempi, quindi è una fermentazione lenta, fanno lo stesso lavoro dei lieviti selezionati, però con calma. Nel momento in cui alza la gradazione alcolica e diminuiscono gli zuccheri, questi lieviti cominciano a funzionare male. Cominciano invece a funzionare bene questi altri, quelli nella fase di acidificazione, quindi la popolazione di questi batteri qui prende il sopravvento. e questi sono i cosiddetti, quelli che vi dicevo prima, i Bruxellensis e i Lambicus, che sono bretti, sono quelli lieviti che se si trovano nella bottiglia di vino, nella bottiglia di vino si buttano il lavandino. Ok? Per capirsi. Quando un vino è brettato è insalvabile, si fa una croce sopra e si mette da una parte. E qui sono voluti, sono quelli che lavorano tanto, perché la parte più lunga della fermentazione è questa, si smette di produrre quasi del tutto alcol e si comincia a produrre acido lattico. Anche in questa fase continua un minimo di attenuazione, ossia ci sono comunque dei lieviti che lavorano sugli zuccheri e li fanno diventare alcol. Quindi anche in questa fase aumenta il grado alcolico. così come aumenta anche in questa fase qui, in cui c'è comunque piano piano una diminuzione delle popolazioni batteriche. Questa è una fase abbastanza critica, perché essendo presenti anche batteri acetici, se questi prendono il sopravvento si buttaria tutto. Cioè i batteri acetici sono voluti, ma devono essere controllati. Quindi se in questa fase qui prendono il sopravvento è finita. E non è una cosa rarissima che butti in via, dopo quasi un anno, un anno e più, butti in via tutto un lotto di produzione, perché gli andava in aceto di malto, ma insomma sempre aceto. possono utilizzare... Poi a seconda di quello che si vuol fare, della tipologia di Lambic, che si vuol fare, diciamo, se va in bottiglia, avviene una fase di rifermentazione in bottiglia, che serve anche un po' per far riposare il Lambic, in maniera tale che le popolazioni batteriche si assestino, qualcuna diminuisce, qualcuna aumenta, diciamo in genere, che, se non mi ricordo male, i brettanomices cominciano piano piano a diminuire come importanza, quindi quando assaggiate giovani questi Lambic sono molto aggressivi, con qualche anno di invecchiamento diventano più gentili, mettiamola così. Lambic è il nome singolare maschile, è il nome generico di tutta una serie di birre, in realtà. Esatto. Questa è la fase di fermentazione, quella alcolica più rigorosa. Vedete, le botte vengono lasciate aperte, quindi non c'è il tacco, si forma tutta questa schiuma che esce dalla botte, e questa schiuma a un certo punto si secca, si incrosta, diventa un bel colore giallo, che aiuta a proteggere dall'ossidazione tutto quello che succede qua dentro, dove qualche settimana viene tolta e tappata, e poi prosegue fino a tre anni di maturazione e fermentazione, perché le popolazioni batterie continuano a lavorare e attenuare anche fino a tre anni. Dicevo, il Lambic è il nome generico di tutta una famiglia di birre. Come Lambic? Lambic non si trova quasi niente. Al limite, se trovate qualcosa, trovate un Lambic giovane di un anno, servito sfuso, a caduta, in qualche piccolo caffè di Bruxelles, è difficile trovare. A parte Cantillon, che imbottiglia questa Bruxelles, che è un Lambic invecchiato tre anni, praticamente piatto, che dopo tre anni non c'è più gas. Il gas si è formato all'inizio nella fase di fermentazione, quella alcolica, ma poi piano piano se n'è andato, quindi è assolutamente piatto. La birra più tradizionale, più classica di Bruxelles è il Faro, che è un Lambic fatto non con il mosto fiore, ma con il secondo e il terzo passaggio di acqua sul mosto, quindi il mosto quello meno ricco di zucchero. fa la stessa fermentazione sempre con i lieviti selvaggi, però si serve giovane e in genere viene addolcito. Ci si mette o del caramello oppure dei sottili frutti, insomma, è una bevanda, era una bevanda molto molto diffusa, a gradazione alcolica molto bassa, era una delle bevande, delle birre più diffuse a Bruxelles in particolare, e per questa gli fecero le barricate in strada. Nel 1842 venne aumentato il prezzo del Faro di un centesimo, e gli fecero le barricate il giorno dopo in strada, finché non riabbassarono il prezzo del Faro. E l'altra volta che Benjamin ha fatto le barricate era per il pane, quindi si muoveva solo per le cose importanti, tra cui appunto giustamente il prezzo. Questo si trova, questo qui, il Faro di Lindemans, che è un Faro molto pettinato, diciamo, molto bevibile, per capirsi, si trova nella grande distribuzione, quindi se volete assaggiarlo, ecco, questo lo trovate molto facilmente. Lo stile serio, quello che è proprio abbastanza tipico del Lambic, nella sua forma forse più conosciuta, è quello della Ghese. Si passa al femminile. La Ghese è una birra che è un blend di Lambic giovani e vecchi, in quelle proporzioni lì. Un terzo giovani, due terzi vecchi. Perché questo assemblaggio? Perché nei Lambic giovani ci sono ancora zuccheri residui, quindi una volta messi in bottiglia fa una rifermentazione senza bisogno di aggiunta di lieviti o zuccheri e parte questa rifermentazione. E avviene un po' quello che viene nel metodo classico, ossia la rifermentazione in bottiglia, qui non viene fatta sboccatura ovviamente, però aumenta la carbonica, le bollicine sono più fini, più eleganti. sono birre tendenzialmente che hanno una componente aromatica abbastanza impegnativa. Qui ci sono quelli che ci si riferisce, quando si parla di Lambic giovf flavor, ossia quei sapori che genericamente uno fa fatica ad associare a un qualcosa di buono, che possono essere, che ne so, stracci bagnati, note animali, carte da gioco, quelle proprio da circolo, molto molto usate, con le mani tabaccose di Sigaro Toscano, tanni che sono, poi dicevi? Sangue. Sangue, esatto, le note animali, ma quelle ferrose, ematiche, importanti. perché, nonostante un sistema di lavorazione, di affinamento abbastanza importante, la regola popolare è che la ghese deve puzzare. Ok? La ghese... Credo si dica, spero si dica. Alcuni dei produttori più famosi, questo non lo sanno in tanti, perlomeno chi beve queste birre rinche sono sempre poi di solito, alcuni dei produttori più importanti non si fanno la birra in casa, comprano i Lambic o i Mosti da altri birrifici e li assemblano. L'arte dell'assemblare Lambic diversi è considerata molto importante per fare un'ottima ghese. Poi ci sono le ghese quelle più bevibili, quelle che hanno delle note diciamo anche un po' più fruttate, più facili da bere, e ci sono delle ghese che puntano molto sulle note acide e lattiche, come Dry Fontaine in Tre Fontane, che è una ghese bella tosta. Parecchio acida, parecchio citrica quasi, con questi off flavor molto molto presenti. Noi stasera, e intanto potete anche iniziare a servirlo, partiamo morbidi. Abbiamo scelto un produttore che non calca molto la mano e comunque partiamo con una tipologia che già di per sé parte un po' più moderata, ossia una di quelle birre, una di quei Lambic che sono addizionati di frutta, anche se in maniera tutta particolare. Perché? Perché nelle cric, oppure nelle framboise, che invece c'è il lampone ma sono fatte nello stesso modo, si prende un Lambic invecchiato, quindi un Lambic vecchio, quindi piatto, con un po' di zuccheri residui, e dentro a questo Lambic ci si mettono a macerare una discreta quantità di ciliegie mature, in buona proporzione, almeno 300 grammi per litro di Lambic. E le ciliegie ci si mettono intere, schiacciate ma intere, quindi non si trovano, non si trovano in occhio. Queste ciliegie stanno un tempo più o meno lungo a macerare, tanto che il fruttosio presente nelle ciliegie in alcuni casi fa ripartire anche la fermentazione, quindi si crea un minimo di fermentazione, e alla fine di questa fase di macerazione la birra viene filtrata, imbottigliata e, se è il caso, aggiunta di lieviti per favorire la rifermentazione in bottiglia. A volte non è nemmeno necessario l'aggiunta di lieviti. Quando viene fatta così, con queste regole, ossia la frutta viene messa a macerare insieme a Lambic, non è che si va ad aggiungere un succo di frutta alla birra già fatta, allora in bottiglia trovate indicato come oude o vieille, quindi se trovate scritto oude cric è fatta in questo modo. Se trovate scritto cric senza la scritta oude o vieille, al 90% c'è aggiunta di succo di ciliegie o di lampuone. Sì, perché appunto c'è la rifermentazione in bottiglia, quindi si crea la pressione dell'anidride carbonica e quindi ci vuole la gabbietta sopra che tiene il tappo. Come? No, le prime ci arrivano il tappo a corona, le prime due che abbiamo assaggiato ci arrivano il tappo a corona. La terza di un po' ci arriva la gabbietta. Questa c'ha la gabbietta e poi non ne so più. La prossima c'ha la gabbietta, ma poi mi sa che ce l'hanno tutte la gabbietta. Io ho messo questi quadri, sono due quadri di Peter Bruegel il vecchio che sono nel 1568, perché si dice, anche se io non ne sarei così certo, che in questi quadri, ora fa la valletta, ma quel signore lì che dovrebbe essere lo sposo sta mescendo dell'ottimo lambic nelle brocche e poi andando sui tavoli degli invitati al banchetto di nozze. Tutte queste brocche qui sono le brocche tradizionali in cui viene versato il lambic sfuso. Nella cestina. Nella cestina. Nella cestina. E si vedono anche qui. Vedete? È molto probabile che non sia affatto la stessa ricetta di lambic che conosciamo oggi. Abbastanza probabile. Perché come vi dicevo prima, i lambic moderni sono stati modificati più o meno in maniera definitiva del 1800. Però sicuramente c'era questa birra fatta con la fermentazione spontanea. La birra che avete nel bicchiere, più o meno quasi l'ultimo, comunque sta arrivando, è di questo birrificio qui. Birrificio Old Bersel. Siamo in provincia di Bruxelles, per dirla in maniera nostrale. Siamo nel Paiottel. È un birrificio storico, è stato chiuso due o tre anni, che poi è stato ripreso in mano da un giovane birraio. E fa le cose proprio in maniera molto, molto classica. Quella che avete nel bicchiere è una cric, ovviamente. Le regole sono quelle che avevo detto prima, si parte da un lambic vecchio, invecchiato, tre anni in botte. Qui la differenza è che si aggiunge ancora più ciliegi. Di solito la regola è 300 grammi litro, qui ce ne sono ben 400 grammi litro. La birra rifermenta in bottiglia e in questo caso, questa credo sia una birra del 2015, quindi ancora probabilmente il produttore non faceva la birra in casa, si stava attrezzando per fare la birra in casa. Fino al 2013-2014 comprava i mosti, non la birra, comprava i mosti da Boone, che è un altro grande produttore di lambic. Comprava i mosti e poi li faceva fermentare direttamente nel suo birrificio, nella sua sala di fermentazione. Grado al polio, per meglio, sei gradi e mezzo. Se avete già messo il naso dentro, penso che riconosciate tutti quegli off-lavor più o meno di cui vi ho parlato prima. Quindi la plastica, quella molto consumata delle carte da gioco ci si sente proprio, ma anche lo straccio lasciato, bagnato per troppo tempo ci si... Delle note formaggiose, delle note lattiche, importanti, anche queste molto tipiche della tipologia. Se fate lo sforzo di superare queste note che caratterizzano molto la birra, sotto cominciate a sentire le note, appunto, della... Si cominciano le note della ciliegia e soprattutto la nota ammandorlata, che è tipica di quando si mette veramente tante, tante ciliegie, specialmente con i noci. Proviamo ad assaggiarla per vedere se in bocca si comporta in maniera un po' più elegante. Allora, qui c'è una buona carbonica, ma come diceva Marco, quello che si nota subito, anche per via della salivazione, che inizia subito, è abbastanza importante, è l'acidità di questa birra. L'acidità di questa birra, a centro bocca la troviamo un po' più morbida, si comincia a sentire la presenza importante delle ciliegie, quasi come sotto forma di amarena, e sul finale è proprio ammandorlata, secca, un po' con queste note lattiche, la stringenza lattica, sembra quasi tannino, ma invece è proprio la stringenza lattica, che finisce secca e asciuga, questa per i miei gusti è molto pettinata, molto pettinata. Le cric vere sono molto più ignoranti di questa, questa è diciamo una cric per aspirante e revisore di Lambi, proprio alle prime anni, quindi siamo partiti proprio facili, facili, facili. Quindi da qui potete già misurare se avete un futuro su questa tipologia oppure no, se proprio vi fa schifo, forse è il caso di abbandonare. Se cominciate a dire, ma però, forse al secondo sonso che posso pensare, allora insistete. I profumi sono particolari, al naso comincia a subentrare la ciliegie, si sentono, si comincia a sentire la speziatura anche di pepe. Ma ti gusto a ciliegie, ti gusto è ammandorlata, si sente un po' in bocca una nota di amarena, ma più che altro è ammandorlata. Appunto anche perché sono le griotte. Sono le griotte, sì, sì. Sono quelle, sì, acide e ordano in bocca. Dal punto di vista tattile, astraetevi un po' dai sapori e dagli odori. Dal punto di vista tattile è una birra molto elegante, ha una bocca veramente stupenda. L'integrazione fra la carbonica e la morbidezza è proprio elegante, elegante. I sapori e gli aromi sono quelli tipici, sono birre impegnative. Si dice un gusto acquisito, appunto, come dicevo prima, secondo me è più una questione di DNA, però, insomma, ci può stare. Come è andata? Vedo gente, ancora vedo gente in piedi, quindi probabilmente meglio, meglio di quello che si pensava. È stato un impatto abbastanza tosto. È la prima volta assaggiavate queste tipologie qui, no? Avevate già... Dovevo usare di più. No, scusate, chiedevo se come c'è il regista che può bere quella della ciliegie, le abbiamo dato una case così per gradire. Com'era? Faccio una recensione. Molto buona, diciamo molto più spinta come stile, ovviamente non c'è la ciliegie che copre un po'... Lì c'è proprio un po' più d'ignoranza. E' una passione, ovviamente, se uno di Galva non le vede di questo genere, non ci sono miei dimensi su nome, cioè non ti costano un po' piacere. Mentre magari quello un po' dolcita della ciliegie, ancora ancora uno ci nota comunque una dolcina, mi immagino che l'abbiamo bevuta. Sì, sì, è un po' più morbida la bocca, ma dolce no, dolce no, è abbastanza sì. Ma è solo più morbida poi. È meno impegnativa della chiesa, sicuramente sì, anche questa è una chiesa abbastanza... La del King, la del King. Sì, sì. Comunque, bella. Grazie, grazie. La ragazza è incredibile. Che birra. Comunque anche questa... la Krik che abbiamo avuto, lì ha tre anni, gli invecchi anni. Con le forze e la del King. Rimaniamo comunque in ambito, siccome non ci siete rimasti in atto male, allora rimaniamo in zona. Visto, c'è anche questo odore. Rimaniamo in zona e... Scusate. Rimaniamo in zona e non sono proprio birra a fermentazione spontanea, ma sono le parenti più vicine, sono quelle a fermentazione mista. Perché si amano a fermentazione mista? Perché la fermentazione principale viene fatta inoculando il lievito di alta fermentazione, poi quando vanno messe in botte subentrano tutte le popolazioni batteriche che si trovano nella botte, di solito sono batteri lattici o brettanomices, che fermentano ulteriormente. Che adorano la quercia, adorano il legno. Che adorano, sì, quel legno proprio pulito bene. Gli piace, gli piace star lì. Sostanzialmente gli stili sono due, ma sono molto simili, ossia sono quello delle Belgian Red Ales o Belgian Red Beers e delle Old Brewing. Sono una delle fiandre orientali, l'altra delle fiandre occidentali come stile, ma sono fatte in maniera abbastanza simile. E come vi dicevo, si tratta di birre di solito con i malti chiari, ma quasi sempre c'è un'aggiunta di malti scuri per le Red, che fermentano normalmente con l'inoculo di lieviti tipici del birrificio, poi vengono messe a invecchiare da uno a tre anni in legno e lì c'è l'attacco dei batteri lattici. La Old Brewing invece è tendenzialmente più scura, mentre le Red sono più rosse, ricordano quasi il rubino del vino. Le Old Brewing sono più marroni, più scure, però sono fatte più o meno nella stessa maniera. Anche qui c'è l'inoculo e anche qui c'è l'attacco dei batteri lattici in fase di affinamento dell'invecchiamento. Sono birre un po' più rotonde, un po' più morbide, però in generale sia queste che le Red vengono imbottigliate facendo un mix fra birre più giovani e birre più vecchi. In maniera tale, sempre per lo stesso discorso degli zuccheri residui, ci sia una rifermentazione, una rifermentazione in bottiglia. Quindi sono birre molto particolari che nonostante siano considerate molto classiche, in realtà sono abbastanza recenti in questa formulazione. stasera assaggiamo quella che è considerata la capostipite di tutte le birre a fermentazione mista, che è la birre prodotta da questo birrificio, birrificio bellissimo, molto bello, su cui ci sono stati spesi diversi soldi per renderlo quello che è. C'è il ristorante, c'è il museo, c'è la cantina custodita gelosamente, come una sorta di cattedrale della birra, perché veramente è un birrificio assolutamente importante, soprattutto per l'impatto anche che la birra che fa questo birrificio ha avuto su tutti gli stili. La cosa particolare di questo birrificio è questi grandi fudre, queste grandi botte cilindriche che arrivano anche a 300 ettolitri, che vengono a 30 ettolitri, che sono proprio, cioè la maggior parte di quelli che lavorano all'interno di questo birrificio fanno i bottai, cioè la maggior parte della forza lavoro di questo birrificio è impiegata per la manutenzione delle botti, perché veramente vengono custodite in maniera assolutamente certosina. Queste sono le botti, le grandi botti che vengono utilizzate, sono in tutto più o meno 300 botti di questo tipo, su cui vengono messe le birre che fanno un invecchiamento più o meno prolungato, da uno a tre anni, a seconda dell'assemblaggio che si deve fare. La birra che assaggiamo stasera è quella classica, ci sono delle versioni un po' più edulcorate e delle versioni invece più vintage, ossia in cui c'è proprio, in cui viene fatto l'assemblaggio finale tra birre giovane e birre vecchia. La birra si chiama Rodenbach Grand Cru, il birrificio Rodenbach è ormai di proprietà di grossi gruppi industriali da diverso tempo, nel 1998 è diventato di proprietà Palm, che poi negli ultimi anni Palm è stato acquistato da Bavaria, che è un altro grande gruppo. Però la produzione delle birre storie, fra cui questa e le millesimate della Rodenbach Grand Cru, sono rimaste tradizionali, sono state introdotte altre birre di cui non ci interessa nemmeno sostanzialmente parlare, ma questa più o meno è rimasta molto simile. Qual è la caratteristica di questa birra, che come vi ho detto è un po' la capostipite del genere, è il fatto che questa birra è stata inventata per per riprodurre una porter inglese, perché Eugene Rodenbach aveva studiato da birraio in Inghilterra e una volta tornato in Belgio cercò di riprodurre le porter che si bevevano a Londra e per farle utilizzò lo stesso sistema che veniva utilizzato a Londra a quei tempi per fare le porter, ossia assemblaggio di birre più vecchie e più giovani. e questo forse era strano, però nel 1700-1800 a Londra era la normalità, le birre che invecchiavano a lungo in botte venivano aggredite dai batteri acidici, quindi le prime porter, oltre a essere scure, erano sicuramente abbastanza acide perché c'era una presenza di batteri acidici e quello che Rodenbach cercò di fare fu proprio questo, di riprodurre per lo stile. Ovviamente non divenne uguale, divenne un qualcosa di simile e ebbe un immenso successo commerciale e da lì poi tutta questa moda di copiare questa birra si allargò un po' in tutte le fiandre qui queste birre di questo tipo un po' più rosso e nelle altre, nelle fiandre orientali invece queste birre di oscure proprio più, forse ancora più simili come colore alle poli. Questa è una birra, sì esatto, poiché non viene fatto, non si vuole fare, è voluto, è sempre stato così, non viene fatta rifermentazione cioè l'assemblaggio delle birre, in realtà anche se qui c'è una birra giovane, la birra giovane che viene aggiunta non ha una quantità sufficiente di zuccheri per garantire una rifermentazione quindi le birre per non alterare il gusto acidulo vengono imbottigliate così come sono e vengono addizionate, saturate di CO2 quindi qui non c'è una vera e propria rifermentazione in bottiglia, se c'è è proprio minima, la CO2 che c'è è aggiunta qui c'è proprio la volontà di caramellizzare il più possibile la birra e la fermentazione secondaria, quella dei batteri acetici che avviene durante la fase di invecchiamento, una volta terminata questa fase avviene l'assemblaggio, la saturazione di CO2 e l'imbottigliamento esistono anche delle versioni che sono totalmente composte da birre vecchie che escono tutti gli anni anche di 10-20 anni prima perché questa è una birra che ha una capacità di affinamento abbastanza lunga profumo di caramellato il colore non è proprio rosso, è un marrone leggermente ambrato, un'ambra molto oscura al naso si sentono le note acetiche, si sentono le note caramellate e le note più fruttate dei malti un po' più oscuri si sentono anche un po' gli off flavor, la parte acetica è formaggiosa, arriva piano piano si, ecco, formaggi si, si è normale è sciupata è assolutamente voluto è quasi un filomatico il naso al naso si perché questa bollitura molto lunga cuoce molto sti malti lì, caramellizza proprio tra quello in bocca è meno paurosa che al naso, in bocca è tutta un'altra birra rispetto al naso si è una birra in cui la carbonica guardiamo guarda cos'è degli animali voi non ti è piaciuto c'è la la carbonica e l'acidità che vanno abbastanza a braccio in bocca e tengono sulla birra il finale è morbido il finale è abbastanza morbido e tutti questi off flavor che si sentono al naso in bocca si sentono un po' meno sono delle note un po' più un po' più pulite ecco, ora piano piano che escono delle note più discervi più ossidative si, piano piano che si scalda escono delle note ossidative che ricordano l'ascetico all'inizio era proprio il bello toro si, ma è lei, cioè l'evoluzione è questa non lo so, è quella ma è una vera bex tanto sei no questo è solo viso a molti giorni poi tanto si col tempo ci vuole un po' offre la scarpazza questa sarete d'accordo penso che se l'altra era più ostia questa è una birra che ha una sua che ha una sua veribilità anche se continui ad addubinare le note acetiche e lattiche è una birra considerata questa molto dissetante molto considerata molto elegante vi dico considerata perché penso che qualcuno di voi avrà delle obiezioni quando ne parlava Michael Jackson che è il noto giornalista di birra diceva che questo era il Borgogna delle Fiandre cioè la assimilava molto per questi suoi aromi e per questa sua bocca a un vino diceva che era una birra quasi vinosa che ricordava la complessità di un vino c'è una persistenza, nonostante la gradazione sia anche bassina si è una birra di 6 gradi, non è una birra molto alcolica il vino che resta soltanto tempo il gusto no vabbè si è partiti con le vite morbide si è partiti con le vite morbide no, per ripulirsi la bocca diciamo, no? come si dice come si dice in questi anni no, va bene, voi magari se volete ci torniamo sopra dopo che si alzeranno un po' le temperature ma magari se le volete riassaggiare si riassaggia rientriamo un po' nell'alveo delle birre che ci sono anzi andiamo proprio in quelle che forse sono quelle più conosciute al bevitore medio, no? che sono le birre d'abbazia, cosiddette in realtà gli stili d'abbazia così come li concepiamo oggi esistono più o meno dalla metà del 1900 1920-1903 prima non esisteva uno stile d'abbazia codificato ogni abbazia faceva la birra come gli pareva e il bello è che la maggior parte delle biblie che uno pensa sia in abbazia l'abbazia l'hanno vista forse in fotografia perché in realtà non è così perché questo? perché ovviamente mettere, come dico sempre a lezione mettere il monaco in etichetta faceva vendere pensate San Bernardus la capitela anche San Bernardus per esempio non è assolutamente una birra d'abbazia c'ha la fortuna di avere le licenze di due grandi birrifici cioè la ricetta dell'Aule Garden per la Blanche e la ricetta di Mesvleteren per le altre birre quindi San Bernardus sia un gran bel birre però con l'abbazia non c'entra nulla tant'è che a un certo punto i monaci ebbero a che dire su questo fatto perché la maggior parte delle birre che vendevano in Belgio c'era un monaco in etichetta quando poi l'abbazia nemmeno l'avevano vista da lontano che ne so, Afflinghem per dirne una no, vabbè, quella industriale no, però le ultime pubblicità che hanno fatto dell'Afflinghem con quella con ah sì se no vi ci denunciano subito però con lui si va da un bel monacone che gli dice guarda noi monaci a Afflinghem quando Afflinghem monaci è dalla rivoluzione francese non ci sono più per sbaglio anche la fenomenica riserva è fatta dall'Afflinghem non si può dire perché se no ci denunciano te lo dico dopo personaggio televisivo personaggio televisivo e vanno i ristoranti facciamolo un uomo perché già si è detto Afflinghem e ci può dire quindi siamo a rischio quindi in diretta televisiva si fanno e... esagerando è in televisiva eh no, no, no no, siamo su Rai2 già Giovanni varie volte ha rischiato delle semerali no, no, ma sono arrivato Sì, Sia Davila Giovanni Giovanni salutiamo quindi cos'è successo allora è stata creata una legislazione questo con chi ha fatto lezione della birra a corso con noi gliel'abbiamo già detto c'è una legislazione che ha vari gradi di elasticità per esempio una cosa che fa abbastanza sorridere è che se te birrificio fai una birra mettendo in etichetta il nome di un santo o di un monastero o di un abbazia che non esiste quindi te lo inventi o se utilizzi il nome di un abbazia che non è più un abbazia che non esiste più lo puoi fare quindi appunto San Bernardus è un abbazia inesistente quindi si può mettere affling e ormai non c'è più monaci da una vita quindi si può utilizzare il problema è che il consumatore finale in realtà non è che sarebbe tanto autorizzato a sapere se quella abbazia o quel monaco esistano oppure no però diciamo è abbastanza a maglie larghe una cosa un po' più stretta è questa ossia la birra da abbazia certificata che vuol dire che il birrificio che fa quella birra ha un accordo commerciale con una abbazia e quella abbazia gli ha detto va bene te fai la birra e puoi utilizzare il mio nome o in alcuni casi c'è un rapporto anche produttivo magari alcune fasi della produzione vengono fatte proprio dentro l'abbazia le uniche birre veramente e unicamente fatte dai monaci all'interno dell'abbazia con il processo produttivo totalmente sotto il controllo dei monaci che possono essere vendute solo per avere autosostentamento per fare opere di carità sono le birre che hanno questo bollino qui ossia le autentiche birre trappiste queste sono le uniche vere birre fatte fatte dai monaci poi dopo vi faccio vedere anche quante sono quali sono intanto vi parlo degli stili questa però è l'unica che c'è questa è una questo è un'abbazia che esiste veramente che ha un accordo commerciale con il birrificio che gli fa la birra questo è un'abbazia che ha diritto a questo a questo bordino qui questo centrale gli stili tipicamente da abbazia che sono stati modificati che dicevo all'inizio del 1900 sono essenzialmente tre però quelli che si conoscono noi sono due quelli che si conoscono sono le double e le triple le doppie e le triple come tradotto in maniera abbastanza rosa in italiano e come sono stati modificati questi due stili in realtà double e le triple facevano riferimento solo alla potenza zuccherina del mosto che veniva utilizzato la leggenda vuole che le botti fossero marcate con una X nelle birre che erano fatte con il mosto meno zuccherino con due croci quelle che avevano il mosto un po' più zuccherino e con tre croci quelle che avevano quelle che avevano state fatte con il mosto fiore quello più ricco di zucche da qui il nome di double e triple per questi stili il fatto che oggi le double siano scure e le triple siano chiare è legato a Westmalle Westmalle è una abbazia trappista che fu la prima che nel 1926 fece la prima birra d'abbazia double trappista scura quindi una birra scura che ha una rifermentazione in bottiglia il colore non è dato dai malti il colore è dato dal sciroppo di caramello molto scuro che viene aggiunto in fase di fermentazione si aggiungono i luppoli ma veramente in maniera proprio molto minima molto equilibrata perché le birre poi alla fine sono tendenzialmente secche la dolcezza che si sente è quella legata ai malti e al caramello che è stato utilizzato in fase di fermentazione sono bine che hanno una gradazione alcolica per essere in belgio abbastanza media intanto voi se volete perfetto potete iniziare a servire la poi appunto stasera assaggeremo una double e quindi magari ci torniamo sopra l'altro stile che in genere quando facciamo le lezioni a primo livello facciamo assaggiare sempre è quello delle triple e anche questo stile così come lo conosciamo oggi è stato proprio codificato sempre da Vesmalle qualche anno più tardi nel 1930 e la caratteristica è quella di essere birre chiare con lieviti di alta fermentazione molto attivi che lavorano più sullo speziato che sul fruttato con l'utilizzo di luppoli di varietà aromatiche e la caratteristica proprio tipica di queste birre è di essere molto molto beverine e di avere un grado alcolico molto elevato oltre alla speziatura che è proprio simile queste sono birre appunto in effetti abbastanza pericolose perché arrivare a 10-11 gradi ci vuole veramente poco la Vesmalle mi sembra sia 9,5 o qualcosa del genere la Vesmalle è considerata da un punto di vista stilistico poi non dico che ci siano birre che sono più buone o che si apprezzano di più però da un punto di vista stilistico la Vesmalle Triple è considerata proprio la pietra di paragone per qualsiasi birrificio che voglia fare grazie per qualsiasi birrificio che voglia fare e appunto la birra proprio più famosa di Vesmalle che si trova anche questa facilmente nella grande distribuzione è la Vesmalle Triple siccome però noi si voleva essere originali e siccome in realtà non si assaggia quasi mai si è preso la dubbio di Vesmalle questi sono i birrifici trappisti a oggi sono sicuramente dodici su due ho dei dubbi ora vediamo se Marco mi sa più di me quei due laggiù no per ora no questo l'ha fatta per un periodo l'ha fatta la Chimè e poi dopo si trova ancora no si trova ancora ma non c'ha più il marchio comunque le tradizionali sono queste le sei belghe che sono Chimè, Rochefort, Orvald, Vesmalle, Ackle e Vesvletere tre nelle fiandre e tre in Vallonia la trap che ha fatto un po' avanti e indietro col marchio perché c'avevano un accordo con lo Heineken quindi a un certo punto gli tolsero il marchio trappista e poi l'hanno ridato queste sono tutte nuove Zundert, Spencer negli Stati Uniti San Bernard nel Regno Unito questa non la so pronunciare in Austria la Abbazia delle Tre Fontane a Roma una delle ultime arrivate e poi c'è appunto queste due che sono bi reprodotte in Abbazie Trappiste ma che oggi ancora non hanno il zonlino Cardegna perché è proprio nuova nuova questa che anche questa non producio per altre problematiche non legate a come si pronuncia e viene in realtà ha avuto questa produzione discontinua per un periodo che l'hanno fatta a Chimè che già definire l'edificio trappista è abbastanza impegnativo diciamo che l'hanno studiata bene però però anche il formaggio tutti gli impianti di elaborazione sono tutti fuori dall'Abbazia in Abbazia ci fanno veramente il minimo indispensabile però è quello che basta per la legge trappista per poterla definire via trappista quello che il resto mi ha fatto rispetto a quell'altre cinque del belgio è proprio differente quanto tutte le altre messe insieme sì assolutamente sì è una di quelle che fa la produzione la birra scusate non ho detto dove siamo allora intanto siamo a Vesmal che è il birrificio Abbazia e il birrificio trappista con questo nome facilissimo la nostra signora del sacro cuore si chiama il birrificio la storia dei monaci di Vesmal è buffa perché loro stavano in Francia ok? partirono dopo la rivoluzione francese quindi alla fine del 1700 per non subire tutte quelle problematiche che il clero subì all'indomani nella rivoluzione francese partirono con l'intenzione di arrivare fino negli Stati Uniti si sono fermata a Anversa non hanno fatto tantissimo la strada però almeno fino a Anversa ci per fortuna ci sono arrivati perché a noi oggi ci tocca queste birre e la birra che abbiamo scelto stasera appunto non è la triple molto più famosa ma è la double perché? perché è molto rappresentativa dello stile in effetti e perché è effettivamente molto molto buona fra l'altro questa è l'unica di Vesmal che si trova alla Spina quindi questa in Italia è un po' difficile ma in Belgio questa si trova facilmente anche servita alla Spina grado alcolico non altissimo 7 gradi il colore è proprio un... tonaca di frate no mi sto guardando l'oro del bache scusate mi sembrava un po' chiaro ecco sì classico tonaca di frate che in questo caso si adatta benissimo alla birra una bella schiuma anche questa è andata un po' via ma sono appena versata l'avete vista sono quelle schiume un paio di diti di schiuma pannosa di solito rimangono sempre nel bicchiere quando è versata bene ma è per questo il conflitto ma è per questo il conflitto ma è per questo il conflitto il conflitto mi chiami malto tutti dolci al naso è molto dolce si come si sente la leve speziatura del lievito ormai lieviti stasera questa speziatura di lieviti è stato un po' un filo conduttore di quasi tutte le birre escluso quelle a fermentazione spontanea mista e poi le note dolci, le note dolci del nuova passa, della frutta secca. In bocca è ricca, è proprio ricca, ci sono delle leggere note mentolate, balsamiche. Al finale leggermente è appena appena marugno, l'asciutto che asciuga e si sente anche qui in bocca domina la frutta, è ricca con queste note di frutta secca, di frutta candita. E' una birra che specialmente nel finale si percepisce secca, si sente che non è una birra dolce, c'è un residuo di zuccherino, però tutta la parte di ingresso in bocca e di centro bocca è decisamente morbida e quasi dolce, insomma la dolcezza dei malti e del caramendo è percepita. Sì, che sovrasta tutto il resto. Poi è talmente pulenta, ti dà questo sesso un po' di dolcezza anche perché è molto pulente e molto morbida. La riferimentazione in bottiglia gli dà questa carbonica molto fine che aumenta proprio questa sensazione di avvolgenza, di pannosità proprio della birra. E' abbastanza di riferimento questa come birra di stile, è veramente molto molto particolare. Potete scrivere anche quell'altra? Un vernale. Noi si continuano a parlare, ma in realtà sei quasi, comunque hai visto che con la birra a sorpresa. No, c'era l'altra volta. Anche c'era la 12, hai fatto, quando è stato? Due anni fa? Due anni fa. Sì, c'era la pescettere. C'era la pescettere dove, che l'hai portata? No, c'era ordinata. Ah, dallo spacciatore. C'era proprio spacciatore. E' uno spacciatore. Un po' che è il numero. Scusi, no, eh. E' un sito. Perché questo, per l'altro è il belgio. No, mancava qui su internet. Io ho con grado, per caso. Ma non ha... Su internet in Italia ha trovato quanto? Sì, mi ha fatto il belgio. Ah, sull'altro spacciatore, ma se ce l'ho va su dove. Non trova più o meno di spacciatore. No, no, no. Allora, stavate. Sì, un belgio. Sì, un belgio. Sopriamo le 65 da passi. Dovebbe fare un ordine. No, questa parte è volante. Se tu ordinavi. I birrifici trappisti sono tutti in generale molto accessibili, ok? Quindi a parte trovare le birre nella grande distribuzione, quindi Rochefort, Hakel, qualcosa di La Trapp, sono tutte grandissime, Orval, ecco, sono birre che magari si vedano degli scaffali nella grande distribuzione si pensa, vabbè, sono birrette, no, sono grandi birre, cioè, specialmente la Rochefort 12, la Orval, L'Orval è anche un po' di bretta, no, l'Orval è anche leggermente brettata, eh, però sono già più bevibile di... Il fumino di chiodo di carota, no? Molto, molto, cioè, sono veramente birre da provare, se vi capita a provare. Ovviamente il Vest Bleteren, quello per cui vi ho messo... Ora vi parlo di Vest Bleteren, ma la birra che vediamo non è Vest Bleteren, direi subito... No, anche perché la fanno solo piccolina, perché stanno già grande, dite? Vest Bleteren è quello più inaccessibile, per cui è necessario prenotare telefonicamente, dare il numero di targa, dare il numero di telefono, andare lì, prendere la birra che c'è a disposizione, quindi o tutte, oppure solo una o due tipologie, e per 60 giorni non si può più riprenotare. E in teoria la birra non potrebbe essere rivenduta, quindi quelle che si trovano sui siti, eh, è tutto una sorta di contrabbando, perché i monaci non vorrebbero che la birra venisse rivenduta. Con la birra misteriosa, io volevo mantenere un po' di suspense, anche sul fatto che fosse una birra o un vino, però appena me l'hanno versata in bicchiere il trucco si è svelato, perché fa la schiuma, o è un prosecco andata male, oppure una birra, non è che ci sia tanto. Un pedro chimene, secondo la schiuma. Un pedro chimene. È con la schiuma, con la schiuma, con la schiuma, con la schiuma. Sì, è abbottigliato. Quindi ovviamente, ovviamente è una birra. Il problema è che è una birra strana. Ce l'ho io? Ora qui, però qui c'è qualcosa. Ora però ce ne parla, effetti, questa ce la raccontate voi. Quindi prendete un po' di tempo per assaggiarla. E direi a cosa ne pensate. Questa è una birra strana. 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 Assaggiatela un paio di volte, perché al primo sorso, secondo me, non si capisce benissimo. Va rivevuta un paio di volte. E va fatta scaldare un attimino. Quindi fatela scaldare un attimino. Questa è una birra strana. Magari si mette un po' di buio in bocca prima della reposizione. La pezzi, 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 la pezzi. La pezzi, la pezzi, la pezzi, la pezzi. Allora, birra scura, va bene, quindi, perché qui non ce l'ho. Schiuma. Ce n'aveva. Ce n'aveva, l'ha perso proprio rapidamente delle altre. Come corpo. Una birra di cotto, bevibile, ha una sua bevibilità, birra e scorre anche questa. Un po' la caratteristica di tutti gli birri. Qua c'è un altro portacoce, le fanno una porta. Dal punto di vista aromatico, però, è abbastanza diversa dai che serve buofio. Ok? Che ci sentite qui dentro? Caffè, liquirizia, malto, frutta secca, datteri, delle note speziate anche di spezia. Spezia dolce. Spezia dolce. Cioccolato? Cioccolato. Non si può finire perché si sente... Cioccolato. È abbastanza dolce. È abbastanza dolce. Quando la producono... Perché? Quando la producono? Perché? Allora, questa birra viene prodotta... Viene prodotta una volta all'anno. Viene fatta una volta solo all'anno, un'unica costa, e poi in cui si produce tutta la vita viene messa in vendita per l'anno. Viene messa, viene prodotta in un giorno specifico, che è il 24 febbraio, che è l'anniversario della data di nascita di un... di qualcuno. In particolare il 24 febbraio del 1500, secco, 1500. Non l'hanno fatta tutta il 24 febbraio? No, no, se no sarebbe... Eh, questa è una birra che invecchia tanto, però non così tanto. Scusate. È nato Nardi. Nardi è la giornata, il 25 febbraio. Nardi è il 25 febbraio, il 25 febbraio, il 25 febbraio. Prima, prima, prima del 24 febbraio. La speziatura potrebbe far pensare a una birra di Natale, per come ve l'abbiamo presentata, però non è una birra di Natale, perché il 24 febbraio ovviamente... Noi, il grasso in bocca ci fermiamo una porta e fa felicità. È una birra, anche perché sta molto invernale, eh. Sì, quando è un dry, è matura. È una birra che ha una sua acidità... Se fosse vino, mi verrebbe da dire malica, ma insomma, ha un'acidità importante. Perché nei botti... No, in realtà, ora, tanto dopo c'è la scheda, la vedrete, non c'ha niente di molto particolare. Non lo so, si può pensare di ipotizzare una gradazione alcolica, non so. Quanti gradi c'ha più o meno? Quanti gradi più o meno? No, vuole più... Un 10. Una decina. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. 12. Rilancio ora, hanno capito. È già stato detto il numero. 10. Eh? Non ho capito. Però c'è una gradazione importante. È la cuvée Wanderkaiser blu di Karolus, birrificio et hanker. È una birra che in realtà non ha nessuno stile di riferimento. È una birra da 11 gradi. Quella che stiamo bevendo è la 2018, quindi l'ultima brassata. Questa è una birra che uno la prende e compra due bottiglie, una se la scorda in cantina e quell'altra la leve. Questa è la birra che va avanti. L'anniversario è quello della nascita di Carlo V d'Asburgo, essendo il birrificio a Mechelen o a Malin, che dir si voglia, secondo la lingua, dove Carlo V passò l'infanzia, gli anni giovanissimi. C'è un leggero amaro che si riconosce dalla leggera nota maritante che resta sul finale, questa nota di liquidizia che si fonde con questo leggero amare. Questa è una birra, se quelle di prima erano pericolose, questa è pericolosissima. Perché ha una beva abbastanza facile, però sega le gambe abbastanza rapidamente, perché 11 gradi, specialmente qui si sentivano di questa beva, si sentivano tutti qui imboccano, qui sull'esofago si sentiva proprio questo calore pronunciato. Ma io la bevevo, io forse la bevevo, questa andrebbe assaggiata, secondo me, si esatto, andrebbe assaggiata qualcosa di anni diversi, perché questa è ovviamente questa dolcezza che passa al tempo. Come tante, come tante, tutte le... Formaggio, come sigaro, c'è un formaggio, un bel divaro, un bel divaro, un bel divaro... È da meditazione, come me, grazie. Però non saprei cosa di diverso, ma non saprei cosa di diverso. Mentre qualcuno di voi, giustamente, riassaggia, se volete si fa il nostro solito giochino delle votazioni... Tutte dobbiamo salutare, comunque, a casa... Sì, ok, usate, come sempre, prima delle votazioni, sempre, per evitare disparità e gelosie fra produttori belge, ci staranno seguendo... Che ci stanno mandando, sono tutti lì. Ci saluto... Lo saranno tutti lì a guardare noi. E certo, grazie. Salutiamo chi stava seguendo la diretta Facebook e poi noi ci riferiamo nel chiuso della nostra stanzetta per fare le votazioni. Bene. Saluto a Vesvletten. Ciao a Vesvletten. Ciao a Vesvletten.